...interprete Tonino Falco, chitarra madre e arrangiamenti e direzione artistica Claudio Fittante, grazie a Fabrizio De Andrè, grazie a tutti voi per la pazienza che avete avuto. Grazie a Fabrizio De Andrè Grazie Grazie a Fabrizio De Andrè Grazie a Babrizio De Andrè Grazie a Fabrizio De Andrè Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.